Continuiamo i concetti base del fotovoltaico. Dove montiamo i pannelli? Ovviamente ci sono tante possibilità ma vediamo i requisiti che deve avere la superficie perfetta. A scendere si fa sempre in tempo. Deve essere ovviamente abbastanza grande da ospitare il numero di pannelli che ci servono. Con una buona esposizione potendo scegliere naturalmente il top sarebbe esposta a sud ma spesso bisogna prendere le condizioni che ci sono. Libera gli ostacoli perché le ombre sono nemiche delle performance dell'impianto. L'ultimo aspetto da valutare è l'accessibilità. Sotto questo aspetto è importante fare una scelta bilanciata perché il posizionamento deve essere abbastanza comodo per il montaggio e la manutenzione ma non troppo comodo. Non sapete quanti impianti a terra sono spariti in una notte. Se volete qualche altro consiglio su come trovare lo spazio per il vostro impianto potete guardare il video fotovoltaico in condominio come installare più pannelli. La prossima volta poi vedremo dove si può montare liberamente un impianto fotovoltaico senza autorizzazioni.